La Cattedrale Metropolitana di Santa Maria del Fiore, la costruzione del Duomo, ordinata dalla Signoria Pioradina, inizia nel 1296 e termina dal punto di vista strutturale soltanto nel 1436. I lavori iniziali furono affidati all'architetto Arnolfo di Cambio per poi essere interrotti e ripresi numerose volte nel corso dei decenni, da Giotto, Francesco Talenti e Giovanni di Lapoghini. Al completamento della Cupola del Brunelleschi seguì la dedicazione da parte di Papa Eugenio IV il 24 marzo 1436. L'intitolazione a Santa Maria del Fiore avvenne in corso d'opera, nel 1412.